In Abruzzo, 14 adolescenti su 28 sono affetti da disturbi di crescita, pubertà e obesità. Il dato emerge da uno streaming effettuato recentemente dal Centro Oxologia dell'Ospedale San Salvatore del capoluogo regionale. Se ne parlerà all'Aquila, sabato 20 ottobre ci sarà un esame a 360 gradi delle patologie nel Congresso Nazionale a cui parteciperanno i prestigiosi studiosi italiani della specialità. Tra gli altri sarà presente anche Giuseppe Chiumello, uno dei fondatori in Italia della medicina dell'adolescenza. Al centro dei lavori congressuali anche cyberbullismo e psicologia adolescenziale. I dati vengono fuori da un controllo effettuato il 19 settembre scorso all'Ospedale dell'Aquila dal Centro di Oxologia durante visite compiute su tenti provenienti da varie province tra cui oltre all'Aquila anche Chieti e Teramo. Il dato, anche se riguarda un piccolo campione, conferma la crescente incidenza delle patologie e la necessità di mettere a punto modalità d'approccio sempre più efficaci da parte degli specialisti. Si parlerà in modo analitico di queste specifiche problematiche sabato 20 ottobre, quindi dalle 8.30 alle 18 all'Hotel Canadian durante il V Congresso Nazionale della Società Italiana della Medicina dell'Adolescenza. Convegno organizzato dal professor Giovanni Farello, direttore del Centro di Oxologia dell'Ospedale dell'Aquila e dalla dottoressa Gabriella Pozzobon dell'Ospedale San Raffaele di Milano che è anche presidenza nazionale della Società di Medicina dell'Adolescenza. Il Servizio di Oxologia dell'Ospedale dell'Aquila da gennaio a settembre dell'anno corrente ha effettuato oltre 150 controlli in dei service e in dei hospital sul deficit dell'ormone di crescita, pubertà precoce, obesità e bassa statura. Nel periodo indicato sono state compiute ben 350 visite di controllo che nel 40% di casi hanno riguardato pazienti residenti in altre province dell'Abruzzo.